ciao giovani ehi eravamo mettetevi tutti in fila a bobbè ragazzi già state partendo proprio lui ma quella devi spingere non ci puoi pedalare dove cazzo stai passando ciao t'abbone t'abbobone vai tiro proprio meglio ci sei puoi andare f*** 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 buona ok 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 è buona è Grazie. Madonna. Iniziamo come si carica. Sì dai possiamo andare. Luca dov'è? No aspetta manca altro. Sì sì. Posso andare? Ciao. Sì sì. 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 Oh! Non c'è ne un cazzo! Vai Sandro! Occhio! Occhio ragazzi! Occhio ragazzi! Porca vacca! Minchia come sguida pure qua! No, non c'è! E' un po' cazzo! So, in un po' qui S'esPlay consequente! Non vettore! Ife, tu vettore! Grazie Grazie a tutti Oh porche vacca A posto Hai seguito o no? Rega a posto? Si Fa un culo Sì Il movimento centrale è un po' meno Sai il segno della ruota posteriore sui pantaloni? Grazie a tutti no 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 ah Sì Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Dai chiediamo il video